Due settimane fa avevamo parlato delle dimissioni di Roberto Mancini come tecnico della Nazionale Italiana. Il tecnico va spiegato che si dimetteva per motivi personali. Oggi abbiamo ben chiaro quali siano i motivi personali, o meglio, sappiamo quanti sono questi motivi personali. Sono ben 25 milioni di motivi personali che spingono il tecnico ex CT italiano ad allenare l'Arabia Saudita, la nazionale dell'Arabia Saudita. Io adesso non voglio discutere il fatto che Mancini abbia deciso di andare ad allenare l'Arabia Saudita per una cifra folle, perché d'altronde 25 milioni cambiano la vita a chiunque, anche a una persona che di soldi ne ha già come Mancini. Però io credo che un po' più di chiarezza e di correttezza ci poteva anche stare. Per carità, invece di parlare di motivi personali, potevi dire che avevi intravisto una carriera alternativa a quella della Nazionale Italiana, avevi visto nuove prospettive di lavoro, avevi visto nuove prospettive di crescita, avevi visto tante altre cose, ma non dire che sono motivi personali, perché sapevamo già, ma un po' era filtrato questa notizia, che l'Arabia l'aveva chiamata. Quindi un po' più di correttezza sarebbe stata molto gradita. Detto questo, cosa volete che vi dica? Auguri a Mancini per la sua impresa e diventa ricco anche per noi. Ciao a tutti!